Buongiorno a tutti, gentili ospiti, autorità, cari colleghe, colleghi, cari studenti, sono lieta di dare l'avvio a questa terza giornata interculturale Bicocca, Muoversi verso, luoghi delle città, dialoghi interculturali, organizzata dall'Università degli Studi Milano Bicocca e dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa. Abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi Sua Eccellenza Nassir Abdulaziz Al Nasser, alto rappresentante delle Nazioni Unite per Alliance of Civilization, e Bill McHendry, Vicepresidente Corporate Communication Strategy, Corporate Market Communication of BNW Group, partner dell'Intercultural Innovation Award promosso da UNAOC. Il tema dell'intercultura, al quale la giornata di oggi è dedicata, è centrale nella società e nel tempo in cui viviamo, che sono caratterizzati da questo movimento di persone in tutto il mondo e dalla incredibile velocità con cui questo avviene. Per evitare che prevalgano situazioni di antagonismo, di esclusione, è necessario lavorare affinché si forme e si fonda un pensiero interculturale. In questo il ruolo dell'Accademia deve essere di primo piano. L'Università ha il vantaggio e il valore del pensiero interculturale che è noto da sempre nei nostri ambienti. Senza scambi fra chi fa ricerca in tutti i campi e in tutte le discipline non ci sarebbe conoscenza. La conoscenza e il sapere si fondano sull'intercultura tra persone e discipline. L'Università è il luogo dove i giovani si formano e crescono. I giovani sono ovunque un'incredibile riserva di creatività, freschezza e rappresentano la parte della società meglio orientata all'interazione e allo scambio e l'Università deve seguire questa grande ricchezza. L'intercultura è parte integrante non solo dei principi fondativi ricordati dal nostro statuto ma soprattutto del modo di fare ricerca e formazione. Vorrei sottolineare che siamo un Ateneo molto giovane ma oggi è già la terza giornata interculturale che organizziamo e ospitiamo. E le riflessioni che si svolgono in questa giornata partono prevalentemente da ricerche, studi, interessi che si sono sviluppati all'interno del nostro Ateneo. L'iniziativa di oggi intende offrire un'opportunità di ascolto, dialogo, conoscenza reciproca con lo scopo di aumentare la consapevolezza che ciascuno di noi è parte di un tutto. La consapevolezza quindi che c'è la necessità di abituarci all'idea di una autoeducazione continua che si rispecchia nella società multiculturale e che prosegue anche al di fuori delle aule universitari. Vi ringrazio quindi per la partecipazione, auguro tutti una buona terza giornata interculturale Bicocca e do la via a un video del nostro Ministro King che ci porta un saluto. Grazie a tutti. Saluto tutti gli intervenuti alla terza giornata mondiale dell'intercultura, in particolare il Rettore Maria Cristina Messa, il Comitato Organizzatore Scientifico e tutte le autorità istituzionali. Mi rincresce non essere con voi, ma impegni istituzionali non me lo permettono. Ci tenevo comunque ad inviare un messaggio a questa importante iniziativa organizzata dall'Università Bicocca. Credo che avviare una riflessione sui temi oggi in oggetto sia fondamentale per ripensare il ruolo positivo della nostra partecipazione come istituzione e cittadini, perché solo insieme possiamo ridefinire le linee di collaborazione fra tutti gli attori coinvolti e in questo rinnovamento dei processi sociali. Le crisi di questi ultimi anni comportano evidenti e gravi rischi di aumento delle disuguaglianze e della disgregazione del nostro vivere civile. Perciò l'integrazione è diventata una responsabilità politica e governativa, ma soprattutto una scelta strategica non più rinviabile. L'integrazione è un processo di adattamento attivo ad una situazione mutata e riguarda tutti noi, perché richiede una reciprocità di impegno dell'individuo e anche della comunità. Ad entrambi, infatti, è chiesto di accettare un cambiamento che può diventare crescita virtuosa se si mettono a frutto le potenzialità delle persone, vedendole finalmente come bacini di ricchezza culturale. È necessaria una politica migratoria transnazionale che coinvolga sia i paesi di accoglienza che di origine dei migranti verso un modello di immigrazione circolare. L'interazione tra migranti e autottoni può avvenire solo in condizione di reale coesione sociale, dove i diritti degli uni sono garanzia di diritti per gli altri, dove ognuno combatte le discriminazioni e in cui la sicurezza nasce dalla condivisione e non dall'esclusione. È per questo che è necessario spiegare che l'inclusione sociale e l'educazione sono la miglior forma di prevenzione a disgregazione e marginalità sociali. Per questo la politica deve orientare tali processi e per questo che come Ministra per l'integrazione sto attuando in concerto con gli altri Ministri politiche comune su punti nodali come casa, salute, lavoro e istruzione. Dare risposta alla voglia di partecipazione dei cittadini e dei giovani e mettere insieme al sistema le buone prassi che esistono nei nostri territori significa anche fare delle nostre città degli spazi quotidiani di relazione, con l'altro esercizio concreto di cittadinanza attiva. Le città devono essere microsistemi, questi microsistemi di interazione, laboratori interculturali, di buone pratiche di convivenza fra istituzioni e cittadini, ragionando su come si è cittadini, sui criteri per divenire parte della polis, cioè della comunità politica. Compito primario dell'istituzione è quella di agevolare, orientare e sostenere questo processo. Con l'avvicinarsi dell'Expo, la vostra città offre inoltre un'occasione unica di inserimento lavorativo e l'opportunità di rilanciare l'Italia. Ecco, rilanciare l'Italia all'estero per attrarre capitale umano, nonché per comunicare le buone prassi che esistono e che ogni territorio locale, compreso la vostra regione, deve mettere a disposizione di tutto il Paese. Voi che siete all'interno del network delle città del dialogo, capite bene la necessità di un welfare che sostenga la classe media in tempo di crisi. Quindi sono certa che dal vostro incontro usciranno spunti concreti per un miglior orientamento delle politiche del settore che sarà mia cura vagliare e sostenere. Buon lavoro.